Non solo le montagne, il soggetto, il motivo per cui la gente veniva a San Martino, i turisti venivano a San Martino. Chi non poteva permettersi l'arrampicata non aveva la possibilità di arrampicare e veniva per i dintorni di San Martino, per quello che stava iniziando a nascere qui. E cos'era San Martino all'epoca? Era solamente un enorme prato, o più che altro un insieme di prati, di prati ricavati tagliando il bosco e cercando di tenere il bosco più lontano possibile, di allargare sempre di più questi che in termine tecnico si chiamano campigoli, sono i prati accanto alle malghe, accanto agli edifici rurali, dove pascolano gli animali che vengono portati in alpeggio. Era un grande alpeggio gestito dalle comunità di Primiero, di proprietà però del priorato di San Martino di Castrozza, che lo dava in gestione ai vari comuni della valle, in cui questi erano gli incontri normali che si potevano fare a quell'epoca. Le immagini ci mostrano molto spesso le mandri che pascolano su questa immensa spianata, circondati da questi edifici che servivano proprio all'utilizzo dell'alpeggio estivo. Vedete le zone disboscate, sono molto più ampie di oggi, e servivano, erano zone importantissime alle disboscate appunto perché servivano al mantenimento di queste mandri. D'altra parte, tutte le famiglie si spostavano a monte per l'alpeggio. Qui per esempio in un'immagine è la zona di Margacese, venivano costruiti questi recinti in cui venivano messi degli animali di tipo particolare, per esempio, visto che il toponimo Castrozza sembra derivare dall'alpeggio degli animali castrati, ingrecinti di questo tipo venivano appunto tenuti separati dagli altri animali, gli animali castrati appunto. È un toponimo che si ritrova anche in altre zone del Trentino e sembra proprio che questa sia l'origine di questo termine. Come va in San Martino? San Martino perché l'ospizio e la chiesetta vicina invece era dedicata a San Martino, Santi Martino e Giuliano, però il principale era Martino, è un santo che si ritrova molto spesso negli ospizi su tutta la catena delle arche. E era proprio legato anche al discorso dei viandanti. Ecco, perciò San Martino è questa qui. Alla fine, alla metà del 1800, questa è San Martino, un grande prato. Gli edifici rurali che lo circondano sono di questo tipo qui, è tipica architettura della nostra valle, della valle di Primiero. Questo è praticamente un edificio che svolgeva tutte le funzioni dell'alpeggio. In un edificio ci sono quattro funzioni ben separate, verticalmente e orizzontalmente. La zona di legno, con questi tronchi che chiamiamo stelari, sono alieggiati, permettono una reazione, serve per mantenere il fieno, l'erba tagliata. La zona immediatamente vicina serve per dormire, dove i margari dormivano. La zona subito sotto serve per fare i prodotti cereali, il fuoco, per mangiare, per stare al caldo. La zona sotto al fienile serve chiaramente da stalla. Per cui in questo edificio, muratura, legno, tetto di scandalo e di larice, è tipico e viene riprodotto in tantissimi esempi nella nostra valle. Questo edificio ha in sé tutte le funzioni che servivano ai margari che trascorrevano qui tutta l'estate. Nella piana di Castrozza ce n'erano due o tre, molto grandi. Questo, per esempio, è l'attuale stazione dell'autocorriere, che conoscete qui sotto in centro. È in quella zona. Vedete che qui non ci sono i due locali accessori, che sono invece nella Malga vicina. Molto spesso c'era la divisione Tavia-Stalla e Malga vicina. Tavia è il fienile per noi. Attorno, perciò, all'Alpe di Castrozza c'erano solamente questi piccoli edifici, questi importanti edifici dal punto di vista rurale. E poi queste grandi zone di Pascolo, come vi dicevo, liberate, questa è la zona di Praticò, liberate dagli alberi il più possibile, per permettere di avere più terreno disponibile per le mangi. Questi sono i territori che questi primi aristocratici che arrivano a San Martino, queste prime famiglie, prediligono per le passeggiate, per conoscere il territorio e per conoscerne anche tutti gli aspetti del territorio che è sotto le montagne. I frequentatori di San Martino, a quell'epoca, come vi dicevo, sono parte della migliore aristocrazia europea. Germanici, austriungarici, britannici, francesi, le cartoline ce lo dimostrano, venivano spedite in tutta Europa. E troviamo cartoline spedite veramente anche in tutto il mondo, da San Martino di Castronza. La fama della località si arricchiva anche per la presenza di personaggi molto importanti. I giornali d'epoca, per esempio, riportavano le liste degli alberghi, le liste di ospiti degli alberghi, e ci fanno sapere che qui soggiornava, per esempio, l'arciduca Francesco Ferdinando, quello, l'erede del trono ucciso a Sarajevo, la moglie dell'arciduca Rodolfo, il figlio di Francesco Giuseppe, è stata San Martino di Castrozza. I membri della famiglia imperiale, diciamo, hanno frequentato quasi tutti, a parte l'imperatore e l'imperatrice San Martino di Castrozza. Ma non solo loro, anche tutto un mondo fatto di artisti, di politici importanti, di militari importanti, che all'epoca avevano una funzione, come vi dicevo, molto importante dal punto di vista politico, frequentava San Martino. Richard Strauss qui ha scritto l'Alpen Sinfonie, Adolf Loos veniva a San Martino, Sigmund Freud, Jung, Hoffman Stahl, potrei citarne a decine, e questi vi compongono proprio il quadro della cultura mitteleuropea. Il più famoso di tutti, Arthur Schnitzler, che qui, a San Martino, scrisse il famoso romanzo che vi citavo prima, La signorina Else, che è proprio ambientato a San Martino, e vi consiglio, se non l'avete fatto, di leggerlo, perché dà proprio delle descrizioni particolari delle montagne. Appunto questi personaggi iniziano a conoscere i dintorni di San Martino, ma non solamente, iniziano anche a creare un ipotetico imbrione di azienda per il turismo, diciamo. Si raggruppano, costituiscono una società di amici e appassionati di San Martino e iniziano a divulgare la località non solamente con le cartoline, ma anche tramite la pubblicazione delle mappe che indicano i primi sentieri che si possono trovare intorno al paese. Ecco, è di fronte a una serata come questa, che non è rara a San Martino nella zona dei Praticol, che Arthur Schnitzler fa dire alla signorina Else questa frase, che è veramente indicativa di quello che si prova quando si vedono le pale al tramonto. Vi dicevo, questo gruppo di amici, quasi tutti germanici a dir la verità, inizia a creare questa rete di sentieri, che poi è la rete su cui si basano anche i sentieri di oggi, quelli che quando fate le passeggiate intorno al paese sono, appunto, ricalcano i sentieri creati da questo gruppo negli anni, sulla fine e l'inizio del 1900, fine 800 e inizio del 1900. pubblicano queste cartoline insieme a delle guide che indicavano i tempi di percorrenza, dove si poteva trovare la malga aperta per bere dell'acqua, per bere del latte, come si poteva raggiungere passorolle, come si poteva raggiungere le varie località vicine, per cui dava un po' una prima immagine turistica veramente della località, anche se come vedete gli edifici sono molto pochi. e queste sono le vie che si trovano intorno al paese, la via del Cacciatore, che si chiamava ancora Jägersteig in tedesco, o la Val Cigolera, tutte vie e sentieri che se frequentate San Martino d'estate vi portano proprio un po' lontano dall'Alpe centrale di Castrozza e vi fanno scoprire posti bellissimi dei nostri dintorni. La zona sud del paese, che adesso è pochissimo frequentata, però allora era circondata da una serie di sentieri molto importanti. e si sono incaricati anche di fare una primitiva segnaletica che portava i primi turisti nelle località più belle, tipo i laghi di Colbricone. Questa è una delle zone più belle del Trentino, direi. la zona dei Prati Col, da cui si vede tutto il paese, qui se salite lungo, questo era uno degli alpeggi anche, da qui vedete tutto il paese, tutta la zona nord, la zona di Malga Ces, da cui si vede tutta la sfilata delle pale, le altre malghe che c'erano in paese, la malga Pezgayar, la malga Pala, che potete frequentare anche questa d'estate, direttamente sotto il cimone, la malga Valliroda, la malga Fratazza, che adesso è lungo le piste, e la malga Sibertaghe. C'è tutte le località che fanno parte di questo grande circuito di sentieri. ma in centro del paese cosa c'era in effetti? C'era solamente questa cosa qui, che oggi è inutile cercare perché non ne troverete più traccia. Questo era l'antico spizio di San Martino di Castrozza. Lo spizio con la vicina chiesa riserva nel circa l'anno 1000, un'architettura romanica, e era un edificio particolare che appunto ospitava i viandanti che transitavano per il Roller. La strada, prima di essere costruita la strada di cui vi parlavo prima, la strada precedente, cioè il sentiero precedente, era praticamente questo tratto qui che si vede davanti all'ingresso dell'ospizio, dietro questi signori. L'ospizio aveva un ingresso qui, da cui si transitava e si usciva tramite quest'arco nella spianata su cui poi sorgeranno i primi grandi alberghi di San Martino. Una spianata che diventerà il primo vero centro urbano di San Martino. Ospizio che nei primi tempi, ancora sotto la supervisione dell'ultimo priore, ospitava i primi alpinisti che transitavano di qua. Ma poi, vista le mutate esigenze, anche le esigenze dei nuovi turisti, di trovare un ambiente un po' più colfortevole, era un edificio veramente cadente all'epoca, venne trasformato, venne dato in gestione dal priore e venne trasformato in quello che diventerà poi nominato albergo Rosetta, che non ha nulla a che fare con l'albergo Rosetta attuale, che vedremo dopo, ma prese questo nome. Accanto al tunnel, chiamiamolo così, da cui si usciva dall'ingresso, c'era questa particolare forma architettonica, che si chiama ritonda, all'interno della quale era stata ricavata la cucina. Questa era la cucina del primo albergo di San Martino. Ecco, pensate che i più grandi alpinisti di fine 800 sono tutti passati di qua. Ed è la gente della più grande aristocrazia europea. Il piazzale diventa il centro della vita sociale dei primi turisti che frequentano gli alberghi di San Martino. Tanto che qui si svolgono tutte le attività e qui viene immortalata questa immagine della prima automobile arrivata a San Martino di Castrozza. Sono due nobili bavaresi che stanno ripartendo per Monaco di Baviera il 22 luglio del 1906. Accanto c'è la nostra chiesetta che allora era veramente molto piccola. Nel 1912 viene ingrandita ed è come la vedete oggi attorno alla quale come in quasi tutti i paesi dolomitici c'era il cimitero che poi è stato smantellato. Ed è attorno a questo nucleo attorno all'ospizio che nasce San Martino di Castrozza come paese. Possiamo definirlo un paese un po' strano perché effettivamente non è un paese che richiama abitanti che costruiscono le singole case gli edifici privati eccetera è un paese di alberghi tant'è che alla fine nei primi anni del 1900 viene definita come un albergopoli non ci sono case private ci sono solamente alberghi nei primi anni a San Martino e San Martino che inizialmente si presenta così inizia proprio accanto all'ospizio che è in questa zona e questo qui dietro inizia a sviluppare da lì la propria capacità alberghiera. I pochi edifici che ci sono allora sono solo la chiesa l'ospizio e la casa cantoniera. Accanto al vecchio ospizio viene edificato il primo nucleo di quello che poi diventerà l'albergo Dolomiti che è quel grande albergone che vedete in centro sotto la chiesa. Vicino a questo un po' più in alto nel 1895 nasce l'albergo Toffol che poi diventa il grande hotel des Alpes qui sotto di noi e alcuni anni dopo all'inizio del 1900 1904-1905 nasce il terzo grande albergo che qui è solo una casetta piccola che si chiamava Alpenrose e diventerà il palazzo Sassmaor in centro del paese. Sono tre i grandi pionieri del turismo alberghiero di San Martino e poi li vedremo uno a uno quando guarderemo gli alberghi. Ecco, vedete che piano piano il paese se così si può chiamare prende una fisionomia urbana però come vedete è solamente un paese costituito da grandi alberghi appunto questo Alpenrose il Dolomiti il Cimone in mezzo e il L'Otel Toffo che poi diventerà il design. Qui è proprio un paese formato da alberghi. si riempiva l'estate si svuotava d'inverno l'inverno rimaneva una zona completamente silenziosa veniva tenuta aperta la strada che conduceva a Rolle un po' alla volta si costruiscono anche i primi caffè i primi bar questo è un esempio l'hotel centrale o bar centrale che trovate in centro addirittura aveva il deposito della benzina in quei tempi e le prime case private prima della prima guerra mondiale sono solo due le case una casa dove dormivano le guide alpine detta casa delle guide che poi verrà ampliata e costruita in muratura e questa che è la casa di un pittore di Venezia che decise di venire a abitare a San Martino si chiamava Voltolina e si costruì questa piccola casetta chiedendo un pezzo di terreno acquistando un pezzo di terreno proprio dal priorato questa piccola casetta su quella che poi diventerà la strada che porta a Malgacese nel 1913 siamo alla fine dell'epoca d'oro della Belle Epoque per San Martino risalgono queste immagini stereoscopiche che ci fanno vedere un po' la vita quotidiana del paese e ce ne fanno anche apprezzare molti particolari costruttivi degli edifici qui si vedono i grandi alberghi già quasi nella loro forma definitiva l'Alpenrose e il Dolomiti la casa delle guide è questa che è ancora in legno il grande hotel desal con le Dependants che venivano costruite di volta in volta per ognuno di questi grandi alberghi il centro del paese dove adesso c'è il ponte e poi delle immagini anche della vita che questi aristocratici facevano in paese ci fa anche apprezzare queste immagini anche gli avvigliamenti addirittura addirittura il momento della colazione al Dolomiti ci fa anche vedere un po' la ricchezza di questi locali di queste superlettili anche che venivano utilizzate un po' un po' un po' Grazie.